ho così cercato di trovare un accordo o l'accordo che c'è stato fra zamparini gobo per colizio perché comunque non è tutto così facile come come sembra c'è questo accordo non è stato è stato un accordo travagliato passiamo invece intanto mettiamo il numero degli sms ora di sovrappressione il brano è un brano di Renato Zero il triangolo di zamparini gobo per colizio aspetta scusa allenare non è un problema ti telefonerò ti offrirò una panchina strana il contesto lo sai 40.000 un po' di whisky sarò grande vedrai tanti mi vesto e dopo mi dirai che mister sei lui chi è come mai l'hai portato con te il suo ruolo mi spieghi qual è io volevo allenare da solo semmai lui chi è lui chi è lui chi è lui chi è è difficile aderare in tre volo mi aspettavo lo sai una panchina un po' più normale quale eventualità trovagli una collocazione ora spiegagli dai la formazione che dovrà giocare mentre io rischierei di trovarmi vero in mezzo ai guai in mezzo ai guai lui chi è lui chi è come mai l'hai portato con te il suo ruolo mi spieghi qual è io volevo allenare da solo semmai mentre lui lui chi è lui chi è lui chi è lui chi è è difficile aderare in mezzo modalo il triangolo no non l'avevo inconsiderato d'accordo ci proverò me lo sai scrivono di telefono me lo sai scritto tu è un reato garantisci per lui per questo calcio un po' articolato mentre io rischierei ma il piano io non lo farei